Allora come vedete il gioco mi chiede di posizionare un mezzo sul portale del potere stiamo giocando a supercharge per ps4 ora praticamente io ho collegato invece la piattaforma di skylanders web però come vediamo anche se appoggio sul portale del potere il mezzo nonostante non stessi usando la piattaforma supercharge il mezzo mi viene riconosciuto lo stesso ok l'unica cosa che non riconosce la piattaforma sono le trappole ok ci mettiamo il granchietto ok così vi ho dimostrato come è possibile utilizzare la piattaforma di un'altra versione skylander per far riconoscere il mezzo ok proviamo a rimuovere il mezzo ok proviamo a rimuovere il granchietto ora sembra playstation accesa stacco questo portale e mi chiede portale scollegato c'è il disegno del portale specifico io adesso collego il portale di supercharge e inseriamo un mezzo ok viene riconosciuto come l'altra piattaforma vedete non sto imbrogliando davvero collegato alla ps4 alla piattaforma specifica adesso c'è anche il posto per le trappole e cambiamo ci mettiamo l'elfetto togliamo l'elfetto e ci mettiamo lo swap a a a Grazie a tutti.